ben ritrovate all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale questo è il pannello terminato come vedete ho aggiunto la tasca con l'albero allora l'esecuzione della tasca è uguale a come avete fatto il tetto vi lascio i passaggi per fare il tetto così vi riallacciate al tetto per fare l'albero il tetto ve lo faccio fare con una tecnica che si chiama di taglio libero non dovete star lì a misurare più di tanto diventa una cosa molto simpatica da fare partiamo con una striscia di tessuto da 23 per 10 e questa ci siamo colore rosso colore marrone o colore bordeaux come preferite ho fatto delle prove in modo da farvi vedere un po la diversità questo sarà il mio tetto quello che andrò utilizzare e guardate come attraverso la cucitura ho inserito i due pezzi laterali è un tetto strano non è un tetto perfetto quindi partiamo già con questa idea un pochino storta diciamo così questa è un'altra prova che ho fatto vedete come e adesso vi faccio vedere passo passo il taglio come attraverso un taglio viene una un effetto diverso allora abbiamo detto 23 per 10 andiamo a tagliare un quadrato che sarà il laterale del mio tetto un quadrato da 15 per 15 lo taglio a metà sulla diagonale vado a tagliarlo così quindi sulla diagonale prendo i due pezzi e comincio a crearmi questa idea questa idea del dove lo voglio mettere come voglio il mio tetto che potrebbe essere non andate mai sugli angoli create ecco può essere messo così e così per esempio come cuccio se ho stabilito che questa posizione mi piace vado a cucire attenzione perché tanto tessuto perché devo avere lo spazio per girarlo quindi se io vado a cucire dritto contro dritto se vado a cucire quando lo giro ci deve stare questo è un quilt che io avevo fatto per un corso proprio per imparare questa tecnica vedete come gli alberi sono strutturati con questo modo di tagliare che diventa molto molto simpatico quando si fanno questi lavori un pochino diversi dal concetto solito del taglio perfetto ecco questo è un modo più carino per così imparare una tecnica nuova anche vi ho dato l'idea di questo carinissimo pannello da utilizzare fuori dalla porta o all'interno della vostra casa se non vi piace l'idea di lasciarlo fuori ho aggiunto questa tasca proprio per permettervi eventualmente se lo usate all'interno di inserirci delle carte delle dei documenti o quello che vi sembra più bello giusto o che vi piace di più state attenti alle misure che decidete voi comunque io ho poi inserito due strisce laterali ho lasciato il la misura totale di 23 centimetri come avevamo già fatto il fondo ok quindi le misure sono rimaste quelle e poi ho creato gli alberi tagliando i tessuti a mio piacimento più o meno stretti o larghi ok quindi sbizzarritevi un pochino con la vostra fantasia la vostra creatività per chi desidera informazioni ulteriori mi può scrivere privatamente buon lavoro e alla prossima settimana ciao